Perché a Pescara? Ma semplicemente diciamo perché i più di noi erano Pescara, si originaria, adesso chiaramente il nucleo dei collaboratori si è speso a tutta l'Italia, lavoriamo con diverse riviste, internet che si occupano d'arte come Neural.it, famosissima rivista storica, lavoriamo con Digital che è una rivista recente sempre che si ha alcune di arche elettroniche, abbiamo collaboratori a Venezia, abbiamo collaboratori come ShotKart.net che è di Roma molto attiva da sempre, abbiamo in qualche modo multimediale essere appunto in rete, quindi non importa praticamente dove accadono gli eventi, non importa più dove si è, cioè non c'è più un centro, ci possono essere tanti centri che possono essere messi in qualche modo in rete e quindi una condivisione di esperienze. Poi sotto il punto di vista funzionale posso raggiungere, bisogna dire che è vero che le piccole province, le province hanno sicuramente dei difetti di, non so, come massa critica di interessati ad esempio, però bisogna dire che poi organizzare degli eventi nelle piccole città per esempio, dimostrazioni ne sono i vari festival dei due mondi, Puglia Jazz, in sostanza, insomma almeno c'è qualche vantaggio funzionale c'è. Assolutamente, lo sono tali amici.